L'industria 4.0 è vista da tutti come un'innovazione, disruptive, ma nel disruptive noi dobbiamo salvare quello che noi conosciamo, le competenze. Spesso dobbiamo distruggere i processi, ma dobbiamo salvare le competenze. Quindi da dove si parte? Si parte dal campo, si parte dalle persone, dalle competenze delle persone, si parte dalla fabbrica, si parte dalle competenze che le persone hanno in fabbrica e da lì si costruiscono nuovi processi con sistemi digitali nuovi, non dimenticando il vecchio, ma costruendo solo il nuovo.